Passiamo al trotto e cominciamo dalle femmine di due anni, può partire la clip numero 9. Talicia S si cerca di svincolarsi ora da Travesura e Terra dell'Est con Terra dell'Est che però insiste a largo, va all'attacco di Talicia S e poi Travesura e Tiffany Deni con Terra dell'Est all'attacco di Talicia S e poi Tiffany Deni che sta rimontando Travesura. Nel finale si difende Talicia S nei confronti di Tiffany Deni che finisce forte a largo ma può soltanto battere Terra dell'Est per il posto d'onore. Tester Schall, lungo la corda e Tester Schall, fatica a ingambarsi di Ligriff, ingresso della retta d'arrivo, 200 alla meta al palo con Tom Forby, preda di Tiffany Kaff. Si ripropone in mezzo alla pista Terra dell'Est, prova a intervenire anche Tester Schall SM, insiste Tiffany Kaff in mezzo alla pista Terra dell'Est, arrivo incerto, cala Tom Forby sul traguardo. E' proprio Terra dell'Est che viene a vincere una corda. Così sembra. Retta d'arrivo, che lo tiffano i Deni al... Per il secondo, è proprio sul traguardo, è l'allievo di Peppe Ruocco, di Bericca. Di inserirsi all'ingresso dell'addirittura arrivo con Terra dell'Est che torna all'attacco di Tiffany Kaff, la coglie in calo sulle due, c'è Titi Jepson, accento a termine, lo scatto di Titi Jepson che è passata, Titi Jepson e Mario Minopoli che fanno esplodere i napoletani di Treviso. Secondo e terzo. Troia d'arrivo, Troia d'Asolo, mentre su Turbo Kaff prova ad intervenire Tarquinio, Troia in chiara evidenza. Poi Tarquinio lanciato a centro pista, Troia d'Asolo, ma che bella cavalla che conclude facile, facile, facile. Davanti a Tarquinio che precede Turbo. Signori, com'è che siete tutti animati? Com'è che c'è questo fermento, questo fermento passionale che vi sta animando perché si consegna il premio per la migliore due anni di trotto, Marco D'Angelo. Allora, la migliore due anni di trotto è Titi Jepson. Titi Jepson, libero Spezia, libero Spezia, eccolo qua. Grazie, questo è un premio bellissimo perché racchiude un po' tutta la simbologia dei pulitri per noi, per tutti gli amici napoletani e dico anche e soprattutto per Marco perché, come forse tutti quanti sapete, Titi è stata allevata nei prati del Garigliano e Marco è stata anche la persona che ha seguito passo dopo passo la sua crescita, quindi è un premio che dividiamo con lui. Grazie Marco. Grazie a Libero. Senti, ma ora ti tocca Salvio, lo sai? Ah sì? Eh! Un applauso a Salvio, da Salvio Libero.